ma ragazzi va bene allora ciao a tutte grazie mille oggi è giorno di webinar che non facevamo da un po' di tempo quindi sono contenta siete tantissime grazie parliamo di che cosa succede davvero il giorno del matrimonio quindi senza sorprese senza misteri senza nasconderci dietro un dito vediamo cosa aspettarsi dal giorno che tanto si attende tanto si organizza con con cura con ansia con tutti quei bei sentimenti che che capitano e cioè prima potremmo già farcela allora come ho già detto a qualcuno che era presente prima questa è una diretta registrata viene inviata tutta la lista di iscritti domani mattina quindi la vedrete se qualcosa vi perdete se siete distratte perché per mille motivi e ci sta ci mancherebbe altro recuperate domani dovrei aver previsto circa un 45 minuti di chiacchiere alla fine facciamo tutte le domande quindi poi microfoni aperti e io resto disponibile finché non siete non ho risposto a tutto e se avete domande se riuscite restate fino alla fine perché ho preparato alcune sorpresine come faccio sempre alla fine sono sconti fondamentalmente ecco così come io acquisto dalla della cinica solo quando fa sconti mi è sembrato corretto fare la stessa cosa quindi iniziamo per chi non mi conosce quella è la mia versione molto molto figa fatta da un fotografo che mi vuole molto molto bene sono claudia sono una wedding coordinator ho un'agenzia che si chiama colorato di pink quindi io di lavoro aiuto le spose che si organizzano il matrimonio da sole a coordinare il giorno del matrimonio perché semplicemente perché e lo vediamo più tardi se siete presenti ehm se siete sul palco non potete essere in regia quindi per ovvi motivi siete sempre vedrete sempre le cose quando già accadono e questo è il vero motivo che è il vero fonte d'ansia del matrimonio perché anche se voi arrivate che qualcosa è già fatto non c'è più tempo per correggerlo per sistemarlo per intervenire è una cosa che io avrei tanto voluto più di dieci anni fa quando mi sono sposata la prima volta poi il matrimonio è finito ed è stata la liberazione della mia vita ve lo garantisco quindi quando dicono ah ma no non voglio questa cosa porta male no porta male sposare un coglione se non sposate un coglione siete a posto ve lo garantisco ve lo firmo ve lo firmo col sangue quel giorno lì mi sono resa conto da buona organizzatrice perché già organizzavo eventi aziendali che io non potevo mi sono proprio realizzato ma io quel giorno non posso controllare chi è che farà le cose e allora ho provato a cercare qualcuno era il 2009 quindi internet non era quello che conosciamo oggi c'era molto meno informazione c'erano molto meno disponibilità ancora si usavano i forum sembra la pre storia mentre ne parlo e mi rendo conto davvero davvero tanto perché vediamo se riesco a mutare ecco ecco grazie giulia mi sono proprio resa conto che io non potevo farcela non ho trovato niente che risolvesse il mio problema l'ho fatto è andato bene comunque la giornata si sbavature errori stavo entrando senza marcia nuziale il dj ha messo comunque canzoni che gli avevo chiesto di non mettere ma alla fine la giornata è stata piacevole tutti si sono divertiti che poi vedremo che alla fine è quello che conta però però ecco dieci anni dopo quando ho sposato luca invece lì avevo già creato la mia agenzia nata proprio su questo bisogno e mi sono resa conto che era che il coordinamento è proprio figo perché organizzare il matrimonio è stato facilissimo avevo sapevo già chi chiamare quindi gli ho chiamato gli ho chiesto se erano liberi per quel giorno e abbiamo discusso due o tre dettagli il tutto sarà durato un quarto d'ora di telefonata se devo essere sincera poi non ho fatto più niente per un sacco di mesi e con calma da settembre avevo ripreso in mano alcuni dettagli ma l'ho fatto veramente con un altro tipo di sicurezza anche perché sapevo che quel giorno non mi sarebbe dovuta preoccupare di niente ed è andato tutto veramente come io avrei desiderato è stato preciso in questo webinar appunto affronteremo insieme la giornata del matrimonio vedremo il wedding day faremo allora ripercorreremo insieme e cercherò di spiegarvi nel limite del possibile ci vediamo insieme che cosa è fondamentale a cosa è fondamentale stare attente per fare in modo che tutto fili liscio o almeno che fili più liscio possibile la perfezione non è di questo mondo e infatti è il disclaimer che vi devo fare il matrimonio non può essere perfetto mai 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 perché ci sono tre variabili estremamente variabili su cui non avete il controllo ve lo assicuro il più classico è il meteo che la pioggia è l'ansia di tutte ma è l'ultimo dei vostri problemi perché secondo me peggio della pioggia a cui basta trovare a riparo quindi se la vostra location ha un piano B buono decente accettabile abbiamo risolto tutto è vero il parco è più bello la cena all'aperto è più bello io sono d'accordissimo su questo ma un piano B corretto non crea problemi è peggio il troppo caldo perché il caldo toglie energie fa sudare le persone innervosisce non c'è soluzione al troppo caldo il freddo improvviso abbiamo deciso di fare tutto all'aperto ma fa freddo questo forse è ancora peggio della pioggia perché le persone si indispongono sono scocciate sentono freddo questo accade soprattutto sulle cene la sera tipo in settembre all'aperto sul prato sale l'umidità che è un'espressione che non esiste ma tutte sappiamo che cosa vuol dire peggio ancora il meteo incerto io e Cristina quest'anno abbiamo fatto un matrimonio guardando il cielo e noi eravamo sicure che non piovesse le previsioni dicevano che piovevano ma c'era il cielo azzurro è stato super stressante abbiamo ottenuto poi il risultato che volevamo portare a casa quindi poi è stato dalla nostra parte questo era peggio perché se avesse piovuto il piano b era già deciso era questa incertezza da gestire noi eravamo presenti e quindi abbiamo lavorato tanto col catering per convincerlo a seguire la nostra idea anche se lui non voleva lui avrebbe pensato a fare il piano b di default in realtà poi col senno di poi ma come si fa a prevedere non si può il vento questo è peggio della pioggia c'è bel tempo lo facciamo fuori non puoi perché c'è il vento quindi ti incazzi anche di più almeno la pioggia è oggettivo ti bagni il vento solleva le cose fate cerimonia simbolica all'aperto avete il velo il vento ve lo fa volare quindi da fastidio il vostro idea di velo che vi segue quando camminate viene a mancare in un secondo perché o lo togliete o ve lo tenete fermo quindi la nebbia non è detto che non ci siano magari più a aprile i primi di maggio fine settembre di una giornata particolarmente sfigata in madonnina di barni a ottobre abbiamo beccato un giorno con la nebbia quindi tutto il tempo anche decente quindi si poteva fare l'aperitivo all'aperto e ma c'era la nebbia quindi tu guardavi giù da questa balconata che si affaccia sul lago di como che è il punto di forza di quella location e vedevi la nebbia cioè vedevi proprio nuvole nuvole bassissime che coprivano il lago non c'era niente come se ci fosse il vuoto sotto di noi ed era brutto quindi tu dici cacchio ok sono fuori ma mi manca il motivo per cui sto fuori questo è quello che riguarda la variabile meteo perché devo portare avanti la mia battaglia del non vi preoccupate della pioggia l'ultimo dei vostri problemi il vento il meteo non lo indica quindi le previsioni dicono sì c'è il sole ma poi sale il vento non benissimo se poi avete invitato che si affrono di mal di testa il vento è uno dei problemi scatenanti c'è la variabile invitati che è quella che quest'anno mi ha dato più problemi se avete sentito la puntata con i soul shake per cui barbara l'ultima puntata del podcast che per cui barbara mi ha anche cazziato ci siamo effettivamente un po sfogati però che loro lavorino e gli invitati minaccino di morte delle persone che lavorano perché rispetto negli accordi con gli sposi che sono diversi da quello che vogliono gli amici non c'è più divertimento così come invitati che fanno i capricci perché non vogliono fare alcune cose ad esempio arrivano tardi in chiesa e impallano la sposa e poi si lamentano anche quindi questo mi è capitato faccio fare l'ingresso della sposa in chiesa io come sempre io l'ingresso non lo vedo mai perché sono fuori con la sposa sto fuori sistemo l'abito faccio entrare tutti da lo che è la marcia nuziale è tutto preciso io poi mi sposto letteralmente di lato io non vedo l'ingresso per non impallare il fotografo a volte corro dentro da un'entrata laterale per provare a godermi almeno al momento anche io arriva sempre sempre l'invitato che entra dietro la sposa allora lo blocco prima eh ma io voglio vederla entrare e aspetti amore sei arrivato con dieci minuti di ritardo aspetti e se la prendono con me quindi ora gli invitati sono un grossissimo problema e se gli invitati anche lì cominciamo la cerimonia simbolica con un ritardo di mezz'ora perché mancano i testimoni della sposa o i testimoni dello sposo o i genitori dello sposo non può iniziare una cerimonia senza queste persone è capitato più volte di chi è la colpa cosa si fa iniziamo lo stesso no ovviamente questa è una variabile che non potete prevedere potete gestirla potete minacciarlo ma tanto fanno quello che vogliono e infine c'è la variabile fornitori perché anche qui più di una volta ho dovuto discutere per confermare le idee che gli sposi avevano avuto e che erano state approvate ci provano proprio a cambiare le carte in tavola per comodità location in cui avevano avuto l'esclusiva gli sposi tempo incerto decidiamo di utilizzare una delle sale al piano superiore delle sale vicine ci dicono che non è possibile perché la sale era già stata apparecchiata per l'evento del giorno dopo aspetta io però ti ho pagato l'esclusiva in quel caso non si può fare niente cioè si puoi discutere dopo su ridarmi la quota dell'esclusiva perché io non ho avuto il mio servizio ma in quel momento cosa si può fare non puoi far smontare una tavola anche perché ci vuoi del tempo e a te serve subito quindi non hai un'ora di tempo per impilare le sedie togliere le tovaglie di mettere a posto i bicchieri e smontare i tavoli e riportarli sul furgone non ce la si fa e non puoi farci nulla purtroppo ed è una condizione che capita altra condizione accaduta anche quest'anno gli sposi avevano concordato di fare l'aperitivo vista piscina mettiamola così arrivo un'ora e mezza prima e vedo che hanno preparato tutto al piano inferiore vista vigne mettiamola così la faccio più semplice e io no guardi che l'accordo era di farlo vista piscina io io il fotografo il musicista lo sapevamo tutti perché voi no ah no boh perché non lo so ma ho parlato con lo sposo e mi ha detto di fare così no ho appena sentito lo sposo mi ha chiesto che quella fosse la disposizione quindi chiamo lo sposo davanti a lui mi fa voce e gli dico ma hai fatto questa modifica no no io voglio che l'aperitivo si tenga in piscina quindi poi il ristoratore era un ristorante mi ha detto ah no è che ho valuta e beh cosa ho capito che lo facevano sempre in un certo modo cambiare quello che facevano gli creava problemi la regola dove sta è il abbiamo sempre fatto così una volta che se lo trovano pronto gli va andare bene io l'ho fatto spostare perché era oggettivamente facile spostarlo quindi conoscendo le dinamiche di un matrimonio l'ho potuto richiedere mi hanno odiato con tutti loro stessi però almeno c'è stato quello che abbiamo ottenuto il risultato queste sono variabili che nessuno può controllare così giusto per mettervi in buona e non farvi venire ansia quindi entrando nel dettaglio a che cosa bisogna stare attenti il giorno del matrimonio partiamo dalla preparazione perché già lì ci possono essere una serie di punti non poco chiari poco chiari che non creano serenità su cui ci può essere fraintendimento dove vengono consegnati il che è chi si preoccupa di assegnare gli accessori sembra un po' no scioglio di lingua assegnare gli accessori vuol dire che a parte la bottoniera per lo sposo e ragionevolmente per i genitori ci sono x bottoniere che non sono solo per i testimoni maschi possono essere anche fatti per i fratelli quando comunque hanno un ruolo importante nella vita e comunque si vuole zii eventuali nonni altre persone maschi maschi di sesso maschile che desiderano essere riconosciuti ad esempio una sposa ha voluto negli ultimi mesi ha stretto amicizia con una coppia anche se loro non erano testimoni ha voluto comunque omaggiare i due ragazzi di bottoniera per lui e braccialetto per lei non ricoprivano un ruolo importante ma erano importanti per loro chi è che se lì chi è che li mette come ci si organizza chi sa alla lista esatta delle persone perché quando facciamo i timing chiedo a chi vanno le bottoniere quindi cinque bottoniere a chi con i nomi esatti chi ha le coroncine quanti braccialetti ci sono e capita spessissimo e si manca il braccialetto questo mi è successo di braccialetti dovevano essere sette non sei c'era lì la fiorista manca il braccialetto della bambina muoviti a farlo e quindi al volo è rimasta lì ha fatto un braccialetto quindi abbiamo risolto il problema la sposa lo saprà no glielo dirò forse ma non conta il cioè quello che conta è sempre come risolvere il problema l'altro grande inghippo di questa situazione è la perdita di tempo il tempo scorre questo sarà un po il punto che ricorrerà in tutte queste slide e non ci si rende conto di delle ore di quanto tempo serva di quanto tempo è passato sembra che siamo passati dieci minuti in realtà è passato un'ora in un'ora di ritardo comincia ad essere un problema qualcuno deve dare più o meno i tempi e insistere anche perché ci si muova perché anche quando si è a casa facciamo le foto aspetta che arriva mia sorella però aspetta sei fermata perché è dovuta passare da casa perché ha dimenticato il cambio per il bambino quindi è tornata indietro e arriva in ritardo ma voglio fare la foto e però aspetta io una delle cose che faccio è sollecitare la gente lo fai dopo non ti preoccupare proprio perché se stiamo ai ritmi di tutti purtroppo il tempo finisce e molti di voi nelle location hanno un vincolo di orario e bisogna stare in quelle ore così come bisogna trovare qualcuno che sia lucido tranquillo e propositivo e sono sicura che con queste tre caratteristiche nessuno della famiglia quel giorno lo è perché ci sono i sentimenti e soprattutto si percepisce il l'agitazione che che c'è durante la preparazione a casa della sposa c'è sempre un'area molto tesa molto frezzantina è difficile trovarla lucidità lì dentro tra milioni di persone che arrivano la mamma che deve controllare la sorella che appunto aspetta gli amici accoglie accoglie casa bisogna chiudere chi mette la macchina dove si va è normale è il bello del matrimonio l'unico modo per evitarlo è prepararsi da sole con i pro e contro di questa decisione questo è l'unico motivo che si ha per essere tranquilli perché non c'è nessuno che ti caccia l'ansia un'espressione non proprio corretta ma secondo me rende bene l'idea quindi questi sono i punti critici della giornata durante la preparazione arriviamo alla cerimonia chi si occupa di far arrivare tutti i dettagli che hai preparato con dettagli penso al wedding bag con i per il riso libretti messa le fedi il cuscinetto per le fedi qualunque altro accessorio che serve il cartello da mettere fuori si può chiedere alla fiorista si può chiedere alle amiche bisogna poi vi spiego come gestire questo questa situazione bisogna dare indicazioni precise perché non ho i libretti ce li ha mia mamma in macchina e anche questo è successo motivo per cui a tutte le mie clienti dico la vostra roba la tengo io così è mia responsabilità e non devo perdere tempo no l'aveva insomma una parente ti direi la sorella del no la fidanzata del fratello parentato insomma e questa si è fermata a prelevare si è fermata a salutare l'amica quindi c'era il prete che chiedeva i libretti io i libretti non li avevo perché gli doveva portare questa amica mai più non si piuttosto che farlo a incapitare faccio mille chilometri per raggiungere il luogo della cerimonia in anticipo però è capitato e col prete che si scocciava perché non aveva il libretto perché poi il libretto va dato a uno anche al prete potete farglielo arrivare prima certo siamo sicuri che se lo ricordi che non lasci in sacristia che c'è un'altra persona libretto di backup va sempre avuto quindi è meglio essere pronti chi si occupa di sistemarli stavo parlando con una ragazza l'ho incontrata sabato ha l'amica molto disponibile sembra anche molto organizzata insomma la classica amica che vuole fare la wedding planner e io le ho detto un po' di cose ho detto sì ok il libretto c'è tu arrivi prima quindi non ti prepari con la tua amica tu devi arrivare molto prima a portare il libretto e quando le ho fatto notare degli orari un po' diversi da quelli che si è immaginata lei quindi c'è rimasta un po' male l'altra cosa è che i musicisti siano arrivati si siano messi dove erano d'accordo sono accordi che di solito prendono sempre gli sposi e poi dilegano qualcuno ma arriva lì cinque minuti prima la sorella e i musicisti non sono al posto giusto non li può far spostare non c'è tempo in cinque minuti per gestire tutto e chi sarà sempre con te non se ne andrà ops aspettate perché ok perché ha svolto quel compito per cui non è stata convocata questo capita spessissimo con quando ci sono alcune amiche che ricevono delle indicazioni devo fare questa cosa c'è l'ansia e qui l'ho visto personalmente perché avevo delle amiche che sono si è sposata una mia amica tanti anni fa era il 2016 non mi ha voluto come coordinatrice perché nessuno è profeta in patria ricordiamoci questa cosa e ha fatto fare tutte le sue due testimoni che erano delle mie amiche erano isteriche isteriche e poi a un certo punto voleva fare il lancio del bouquet e queste fioriste che in dovevano occuparsi del coordinamento non si trovavano io le avevo individuate viene da me mi fa vorrei fare il lancio del bouquet me lo organizzi ma io non c'è l'unica cosa che potevo fare era andare cercare le fioriste e farmi dare il bouquet che era stato messo in una cella frigorifera ma io non avevo idea dove fossero le celle non avevo idea di chi fosse la responsabile del catering quindi anche volendo diciamo che ho sollecitato le fioriste e ho detto guarda c'è la sposa che vuole fare il lancio del bouquet qui siamo anche volte comunque in generale le persone hanno delle domande ci deve essere sempre qualcuno che risponde di solito nella sposa e quindi arriviamo alla location questa è la parte secondo me più critica perché come ho raccontato prima con un paio di esempi spessissimo entra subentra un meccanismo che si chiama abbiamo sempre fatto così l'abbiamo sempre fatto così a volte è meraviglioso la soluzione di tutti i mali a volte è veramente la certezza dall'altra non c'è nessun tipo di possibilità di accettare qualcosa di diverso quindi l'aperitivo si fa nella zona a la cena si fa nella zona b il taglio torta si fa nella zona c la pela il buffet di dolce si fa nella zona a e si balla nella nella zona d non c'è alternativa anche se si potrebbe perché ormai sono abituati a lavorare in questo modo e guai a cambiare le regole in corso e se anche tu proponi di cambiarle può essere che facciano lo scherzetto e a metà cambino di nuovo le carte in tavola perché per loro era più comodo i tempi spesso vengono gestiti dal metro di sala che però non tiene conto sempre delle esigenze degli sposi anche se voi l'avete dette perché perché in quel momento è più impegnato a fare in modo che la cucina serve in tempo il risotto la pasta e la carne invece che ricordarsi che tra i primi secondi gli amici volevano fare uno speech magari glielo dicono anche gli amici lui li liquida con niente si si poi lo facciamo andato basta in passato non si può più far niente e ci sono gli imprevisti anche qui ricordo sempre questo matrimonio della mia amica ma perché veramente ho visto delle cose da organizzatrice avevo l'occhio diverso e arriva la responsabile dire nel catering va dallo sposo gli dice ah sai abbiamo dovuto fare questa modifica per questo motivo mi avevo capito che non era quello che loro volevano e lui ha detto va bene cioè sono appena arrivato ho fatto le foto adesso mi devo sedere a mangiare non possiamo cambiare nulla quindi anche volendo la modifica anche se non mi piace l'ho dovuto accettare non ho la possibilità di discutere o di trovare una soluzione alternativa questi sono i lati negativi delle cose a cui stare attento quindi fondamentalmente che gli accordi presi vengano rispettati e che se non vengono rispettati ci sia qualcuno che per tempo possa intervenire a modificarli come fare non aver problemi e accettare quello che fa la location così in questo modo non si sbaglia si va via lisci si è sempre fatto così lo lavorano come una macchina da guerra il matrimonio del giorno prima sarà uguale al matrimonio del giorno dopo non per tutti un problema questo come come tenetela come regola in generale e a chi ci si rivolge di solito per risolvere questi problemi come ho detto prima alle testimonie alle damigelle alle amiche organizzate tutte abbiamo un'amica organizzata se non ce l'avete l'amica organizzata siete voi e questo è uno dei problemi più gravi c'è la buona volontà c'è il desiderio di aiutare la propria amica c'è il desiderio di essere in qualche modo coinvolti nella giornata del matrimonio che è sempre bella quindi è un onore poter dire ah io ho portato i libretti in chiesa io mi sono occupata che tutti entrassero per tempo se io l'ho aiutata sono stata importante la verità è che non hanno una visione a 360 gradi di tutto il matrimonio non conoscono esattamente tutti gli accordi presi con la sposa un po' perché forse neanche viene in mente di raccontarli proprio tutti non hanno esperienza sì magari hanno già fatto qualche matrimonio hanno già fatto l'hanno già fatto altre volte perché si è sposata la sorella poco prima ma ogni matrimonio è a sé e soprattutto a un certo punto le vedo proprio che vogliono godersi la festa stanno dietro alle cose organizzative non permette di godersi la festa perché perché mentre gli altri ballano fanno l'aperitivo stanno bevendo e fanno la foto di gruppo bisogna posizionare il menu controllare che i tavoli siano corretti che abbiano aggiunto il posto che mancava che il tablo sia stato messo dove era desiderio della sposa fare in modo che tutti passano da quella passino da quella parte per controllare il loro posto a tavola e via dicendo la mamma della sposa è forse la scelta peggiore perché ha due grossissimi difetti innanzitutto soffre tanto dell'emozione della figlia ed è giusto che sia così ma più di una volta l'ho visto si preoccupa solo dei propri invitati cioè se tutto il matrimonio va benissimo sono tutti contenti sono tutti sereni se la zia angela della situazione che mia zia quindi è una di quelle che un po fa storie è scontenta del posto a tavola dell'angolo del tavolo di qualcosa va dalla mamma della sposa quindi in questo caso la sorella è una per la cognata glielo dice la mamma della sposa e dello sposo sia chiaro il gioco vale per due è disposta a ribaltare tutto per far felice una persona sola e su cento invitati non è minimamente possibile perché stiamo parlando dell'uno per cento l'uno per cento è una percentuale che non viene considerata in nessun caso se io vi dicessi avete l'uno per cento di possibilità di morire sul novantanove di vivere nessuno avrebbe dei dubbi ovviamente e invece no le mamme mi sconvolgono tutto quanto è normale penso che abbiano tanto paura delle critiche visto che poi sono quelle che hanno a che fare con i parenti e soprattutto curano solo le pr con i parenti anche cioè il lavoro della mamma è curare le pr devono prendersi complimenti devono stare intrattenere le persone devono chiacchierare con tutti devono salutare tutti quello è il lavoro della mamma il giorno del matrimonio e come ho raccontato anche nel libro come racconto sempre la mamma agitata spingeva la sposa dai che siamo in ritardo se no non ti fanno fare non entro in chiesa c'è il parroco che ti butta fuori lei la sposa ha risposto tanto senza di me non iniziano in ogni caso e non era in ritardo di due ore erano veramente i classici cinque minuti assolutamente accettabili la figura più probabile è la wedding della location e la responsabile di sala qui e o responsabile di sala di solito il metere insomma il capo servizio nei catering è tendenzialmente il capo servizio qui parlo per cognizione di causa perché se lo sapete da un paio d'anni sono una delle wedding della location di madonna di barmi sono sicura che l'avete capito perché mi vedete su tantissimo la prima volta che mi hanno chiamato per fare questo ruolo perché loro hanno scelto di seguire solo con grande attenzione la parte del food mentre di delegare a un'altra persona tutta la parte di rapporti con le spose e per l'amor di dio la scelta è perfetta io e giorgia da subito abbiamo messo in chiaro che non saremmo state chiamate wedding planner né wedding coordinator ma event manager ed è chiaro sui contratti c'è scritto event manager e soprattutto portiamo il metodo ricolorato di pink all'interno della location quindi siamo io e giorgia che ribaltiamo le cose lì in mezzo per fare in modo che si possano fare cioè conosciamo le limitazioni della location quindi sappiamo che paradossalmente lì il riso si può lanciare ma non si possono lanciare i coriandoli e al netto di questo diamo noi le indicazioni vogliono fare le cose da un'altra parte abbiamo sappiamo esattamente cose possiamo concedere e cosa no senza cambiare le carte in tavola quindi devo dire che sono potrebbe essere un'espansione di colorato di pink e diventare le wedding delle location di tutte le location però quindi facendo comunque gli interessi degli sposi nel limite concesso dalla struttura che poi è questo quando non c'è questo tipo di funzione le famose wedding della location fanno gli incontri due incontri non si sentono più con gli sposi se ci sono delle idee diverse cambiano anche loro fregando fregandosene e soprattutto mi sono resa conto di una cosa hanno gli orari preimpostati quindi alle dopo il taglio della torta per loro finisce l'evento cosa succede dopo non è più un mio problema e l'ho visto il matrimonio perché quando sono presente anch'io e ho pensato vabbè lei sono presente anch'io loro fanno solo la presenza quel giorno ci sta che vadano a casa prima perché tanto il grosso è passato invece no perché tantissime spose poi mi hanno detto che a un certo punto questa persona non c'era più ed era andata a casa quindi a una certa bacioni mentre il coordinamento resti fino alla fine resti insieme fino dico sempre che faccio chiusura con gli sposi il problema di avere un responsabile di sala invece è che all'altra cosa che mi è capitata la wedding della location doveva occuparsi dell'allestimento della confettata e per inciso l'allestite in una zona buia pieno di candele cioè ha messo solo delle candele per cercare di illuminare io la guardavo dicevo ma non vedi che non va bene e ma gli sposi mi hanno detto che la vogliono qua e ma tesoro ma se non ci si vede cosa mangiano che cosa cioè come funziona la questione quindi abbiamo anche c'è anche detto che forse era il caso di recuperare due lampade per provare di illuminare perché non c'era veramente modo di capire dove stavi mettendo le mani neanche se e tra l'altro l'effetto buio con tutte le candele faceva altare della chiesa cioè era oggettivamente un po bruttino ma va bene e invece responsabili di sala che sono tanto bravi tanto cari quando iniziano il servizio pensano solo al servizio allestiscono tutto prima quindi confettata preparata prima tavolo delle bomboniere preparato prima in posto comodo per loro fa niente se a due chilometri da dove poi si balla il tavolo delle bomboniere dove avete fatto l'aperitivo ballate in cantina ci si sposa sempre in cantina e quindi dovete fare avanti e indietro avanti e indietro per andare a salutare le persone che a un certo punto per tenere freghi della bellezza ti fai portare giù le bomboniere e le tieni lì in un angolo per darle comodamente perché poi alla fine si fa questo perché loro preparano tutto prima questo è lo grandissimo limite sono costretti a farlo quando stanno preparando non lo possono fare in corso d'opera perché tutti i camerieri hanno un altro hanno altro da fare questo è fondamentalmente il grande motivo per cui c'è la sua morte con le wedding della location responsabile di sala sono veramente poche ad oggi le persone che lavorano bene e che diano un servizio estremamente alto questo lavoro fino a qualche anno fa lo faceva la moglie del titolare insomma qualcuno che aveva un po' di voglia di stare dietro a qualche matrimonio solo se ce n'era qualcuno particolare adesso è diventato un po' di moda penso anche per copiarmi no 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 tutta questa spot che ci mancherebbe però ecco in tante l'ho visto e ho visto proprio una serie di limitazioni quindi lo so esattamente cosa fa la wedding della location va bene se avete me se non avete me è un wannabe è un faccio il minimo sindacale tra l'altro io con georgia da quest'anno soprattutto e un'altra cosa potete tranquillamente verificare è beppe che ogni tanto leggete nel gruppo è uno degli sposi di madonnina quindi non ho fatto la wedding della location per lui alla fine sono stata cioè abbiamo lavorato bene insieme il matrimonio è venuto molto molto bene lui contento ed è tuttora all'interno del gruppo super entusiasta di tutto ed è stato oggettivamente molto bello così come Ida anche lei intanto scrive nel gruppo e sono tutte persone presenti soprattutto poi quando ci vai d'accordo si crea sempre questo feeling positivo che si mantiene anche dopo non a caso sono presenti oggi durante il webinar anche Alice che si è sposata un anno fa però lei c'è sempre il webinar e fa un sacco piacere questa mi piaceva solo questa idea del della x rossa davanti arriviamo al punto perché io fino a vi ho parlato di un sacco di problemi ho messo la situazione tragica come poche altre volte quindi come si gestisce la situazione chiamandola wedding coordinator ragazzi siete nel mio webinar non potevo dirvi altrimenti in realtà ci sono tutta una serie di alternative quindi bisogna chiedere aiuto delegando attenzione però a poche e fidate persone esterne ai ruoli importanti quindi non va bene la testimone non vanno bene le damigelle non va bene la mamma scegliete persone con cui avete un'ottima confidenza può essere la collega preferita può essere qualche amica che sapete avere un po' il pallino dell'organizzazione con cui vi trovate bene a parlare perché capisce esattamente la mania di controllo che avete che è sacrosanta e gli dite esattamente cosa deve fare esattamente vuol dire non porta i libretti in fai arrivare metti i libretti messo in chiesa perché lei potrebbe farlo cinque minuti prima e andrebbe e lei ha fatto ciò che tu gli hai chiesto bisogna dire ho bisogno che tutti i presenti 40 45 minuti prima dell'inizio della cerimonia e tu dia i libretti messa ai testimoni cioè sulle sedie dei testimoni sulle sedie degli sposi al parroco ai cantanti ti chiedo anche di verificare che i cantanti facciano questo questo e questo quindi ti prego di bisogna essere precise nelle indicazioni dando i tempi e assegnando poche pochissime persone dire la stessa cosa dieci persone è il male perché la capiscono in dieci modi diversi e soprattutto la prima che l'ha fatta non lo comunica alle altre nove perché non sa che è stato detto da altre nove persone e quindi chi doveva controllare ha dieci persone che vengono a chiede la stessa cosa non funziona crea fastidio oggettivamente quindi scegliete pochissime persone ve ne direi due giusto per non stressarne una due o tre una che venga a casa una che venga che si occupi della cerimonia e una che controlli due o tre cose location fornendo tutti gli strumenti necessari vuol dire dando i numeri di telefono dei fornitori dandogli un'idea del timing dandogli esattamente gli accordi che sono stati presi dando una procedura un po come nelle grandi aziende che dove tutti possono fare tutto perché ci sono delle procedure tra i tanti lavori che ho fatto fino a qualche anno fa perché colorato di pink ancora non era pieno regime ho fatto la commessa sotto Natale perché paga tantissimo almeno qualche anno fa pagava un sacco di soldi e Natale cioè il mese di dicembre di novembre erano mesi oggettivamente scarichi e quindi potevo mi occupavo di lavorare o in agosto a coprire le ferie di chi mancava ho fatto sempre sostituzioni nelle catene perché vabbè a parte che ti assumono senza far storie proprio perché gli stai salvando un periodo ma poi perché anche io che non avevo mai fatto la commessa prima con un po di buon senso mi bastava leggere le procedure cioè io sapevo che dovevo fare A B C D esattamente in quest'ordine quindi diciamo che una persona di media intelligenza che sa leggere delle istruzioni e le sa applicare e tendenzialmente tutti siamo in grado di farlo non ha nessun tipo di problema e il lavoro può essere fatto da chiunque sia di turno in quel momento questa è la mia esperienza sia chiaro però non sapevo tante cose e aprivo il link legato alla mail il libretto di istruzioni e potevo farlo quindi io abile ruolata dopo un giorno due giorni di veloce training dovete fare esattamente la stessa cosa quindi strutturare delle procedure parlarne fare una riunione dovete fare il capo siete il capo dell'organizzazione dovete delegare conto terzi una volta che avete trovato queste persone e che vi siete resi conti che lo fanno col cuore perché mia sorella è la persona di cui io mi fido di più al cento per cento io posso chiamare in piena notte lei si presenta da me senza battere ciglio è altrettanto vero che non è capace di gestire lo stress l'organizzazione quindi tutte le domande tutte queste cose la mandano in panico quindi dovete anche trovare la persona in grado di star dietro questo aspetto e poi vi dovete fidare dei fornitori che avete ingaggiato e qua vedrete se le vostre scelte sono state azzeccate oppure no in questo caso si procede nello stesso modo quindi si danno pochi e chiari punti su cui non siete disposti a scendere compromessi non può essere tutto perché non abbiamo appena visto che non hanno tempo di stargli dietro ci sono degli aspetti importantissimi che vuoi che vengano fatti in un certo modo su tutto il resto si scende a compromessi avevano detto che la pianetivo sarebbe stato vicino alla piscina l'hanno spostato sotto la pineta vabbè basta che la pianetivo si faccia la piscina è fondamentale vuoi che sia a tutti i costi lì allora gli dici guarda fate quello che volete ma io su queste cose non transigo voglio che vengano fatte in questo modo non potete chiederlo di ogni aspetto diciamo che magari di solito può essere il taglio della torta può essere il primo ballo questi momenti guarda voglio che lo speech ci sia quindi per favore segnatevi grosso come una casa che tra i primi secondi ho bisogno invece dei 40 minuti di pausa standard ho bisogno un'ora perché voglio che le mie amiche facciano degli speech ci sono cinque persone che parlano queste cinque persone sono mini topolino pluto pippo e paperino loro devono farlo poi tutto il resto potete anche ignorarli ma loro ci devono essere quindi organizzatevi di conseguenza non so se spero di essere stata chiara perché chiede di fare tutto e fare il lavoro della planner del coordinator e non è il loro lavoro però è giusto che voi abbiate delle richieste ben precise che queste vengano comunque rispettate questo è successo anche con il mio coordinamento una sposa voleva fare un sacco di cose stiliamo il timing e vedo chiaramente che non c'è tempo perché ho idea del tempo dei trasferimenti una cosa molto semplice voleva andare a fare le foto al mare non c'era tempo questo avrebbe portato via quasi due ore due ore e mezza era un tempo infinito e poi le aveva tante bene insomma era un matrimonio molto complicato anche in location quindi ho detto guarda se ce la facciamo sono la prima che te lo fa fare ma visto che ti dico che il tempo non c'è che cosa di quello che abbiamo mi hai detto è fondamentale venga fatto e tutto il resto possiamo rinunciare e anche in questo caso anche con me presente per mancanza di tempo abbiamo fatto un compromesso dando priorità ad alcune questioni quindi questo è fondamentale ci deve essere e quello abbiamo fatto in modo che ci fosse tutto il resto abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa e poi visto che ci sono le variabili che abbiamo visto prima che sono meteo invitati e fornitori a un certo punto lasciate perdere so che è difficile e ve lo dice una che vi capisce perché anch'io soffro di grandissima sindrome di controllo io do di matto quando non so cosa sta succedendo mi fa proprio innervosire io in montagna con luca ci siamo fidati di delle indicazioni di una di una persona che abbiamo trovato abbiamo cambiato il sentiero rispetto a quello che avevo scelto che avevo studiato io non siamo pratici di montagna quindi studiavo tutto per sapere abbiamo cambiato ci siamo fatti un po convincere io ero agitata non da un po stanca però non dalla fatica ma dal fatto che non sapevo dove ero che sentiero fosse dove dove era destinato dove eravamo locati ero su una montagna non sapevo niente a me quello che mandava i matti non era il percorso complicato proprio infatti io dicevo luca ma che sono nervosa perché non so non so cosa sta succedendo quindi sappiate che da me avrete tutta la comprensione di questo mondo noi siamo anime gemelle che ci siamo trovati in questo webinar quindi sarete tranquille appurato tutto questo studiato in questo modo la giornata del matrimonio lasciate andare conta di più che le persone si divertano che le persone stiano bene il tablò è stato messo in un posto sbagliato rispetto dove voi volevate vero ma si hanno trovato posto sono tutti seduti si stanno divertendo il cibo è buono la musica bella il clima è perfetto fa niente il dj ha detto che ti avrebbe messo delle canzoni e invece a un certo punto ha cambiato rotta perché gli invitati gli hanno chiesto di mettere musica rock è successo un matrimonio però tutti si sono divertiti cioè c'era la gente che si stava divertendo come poche altre volte ed è andato bene così era un dj ha seguito il ha fatto il suo lavoro in realtà ha seguito un po lo stile della pista e di quello che chiedevano le persone che stavano ballando quindi ha adeguato il mood al clima e il lavoro l'ha fatto capisco dici vabbè io l'ho pagato per fare una cosa però bisogna veramente guardare il macro proprio perché è una giornata che capita una volta perfettamente d'accordo che alcune cose cioè i punti principali vengono rispettati tutto il resto si fa per far star bene gli invitati se no fate come ha fatto claudia io che ha pagato la band rock lo ascoltava solo lei a un certo punto ha deciso che non mi fregava niente degli invitati e si è fatta cantare le canzoni quella che conosce solo lei cento invitati ero l'unica che cantava a posto così ma basta che si facciano allora io vi dico tutte queste cose perché vorrei che le decisioni venissero prese con condizione di causa sapendo esattamente che cosa accade è il modo migliore per valutare la situazione nel suo insieme almeno questo dal mio punto di vista se non si sa che cosa sta succedendo se non si sa come funziona non si può decidere non si può decidere ovviamente le soluzioni possibili sono il coordinamento di colorato di pink che ha dei limiti il costo magari non tutti lo vogliono affrontare motivazioni varie ce ne sono tante ma anche ho la data occupata e quest'anno è stato sia nel 2021 scusate nel 2022 che nel 2023 sta diventando un grosso problema la data occupata si può comunque in qualche modo risolvere il problema con dei servizi di timing più consulenza oppure dei pacchetti di consulenza se poi le persone presenti oggi al webinar che stanno sfruttando i due servizi numero 2 e numero 3 se volessero condividere come stiamo lavorando insieme mi farebbero veramente un grandissimo favore proprio perché è possibile quindi al netto del devo fare tutto da sola lo faccio al meglio senza perdermi via grazie quindi èabyte in in